Cosa hai fatto raccolta? Un po' fatto, trovo una bottiglia di birra che decido di lanciare solo che scendendo dal furgone con in mano il cellulare come sempre questa brutta abitudine il mio cervello ha avuto un tilt e al posto di lanciare la bottiglia di birra ha lasciato la birra qua e ha lanciato il cellulare qua Regaliamo, fai vedere qua Temi, metti anche le ciabatte Emiliano, ma che fisico da merdo che la temi C'è il piumino nuovo, strada raga Allora, strada? Fatima la strada Fa me la provare un secondo, a me è proprio giusto Ti dobbiamo vincere Ok raga, in anteprima mondiale L'iphone 5 No, è uscito E' uscito in Nuova Zelanda Allora Gali Ti faccio vedere le funzioni di questo bellissimo icon Prima funzione Antenna con funzione di gamma guida Perché praticamente l'antenna tu fai così, vedi Guardi, abbiamo preso i grissini C'erano tutte e due più belle La nostra storia sembra scritta da un cartone alla tv Adesso chiamo Emi, avete fatto la minchiata Non è così Un ragazzo Un ragazzo Un ragazzo Un ragazzo Un ragazzo Allora raga volevo insediare un libro a tutti quanti che sto leggendo e che tra insediavi molte cose nella mente della musica, magari tutti quanti lo saprete perché è uscito, è già popolare, volevo consigliare a tutti l'ultimo libro di Cristina Parodi, Cotto e Mangiato, ve lo consiglio, un attimo libro, ovviamente scherzavo, parlavo del libro di Suor Germano. Ciao amici, siamo sul palco che c'è il tuo asomisianza, volevamo annunciarvi una data importantissima, dove qua? 4 dicembre a Milano, ai magazzini generali, ai magazzini generali, 4 dicembre, il ragazzo d'oro tour, starring, me myself and I, Galifo, Vedez che in esclusiva farà il nuovo single, Milo Zio, bella raga, è proprio questo il DJ ma, 4 dicembre l'unica data a Milano, che fanno le prevendite su www.vivaticket.it, unica data a Milano, non mancare cazzo, ragazzo d'oro tour, ragazzini generali.